In ogni contesto Dio pone questa domanda, chi manderò? E Don Nazareno Galullo ha risposto. Eccomi, manda me. Noi lo abbiamo in collegamento Skype, addirittura dal Benin. Bentrovato Don Nazareno. Ciao Anna Maria, buona domenica, ben ritrovata. Buona giornata missionaria mondiale. Bravo, grazie. Sei la prima persona a cui posso dirlo, in italiano, perché questa mattina l'ho detto in lingua francese e mi sforzo di dirlo e di imparare la lingua locale. Ciao, come state? Grande, grande. Noi stiamo tutti bene, voi mi immagino di sì, dai sorrisi che si vedono anche attraverso uno schermo. Allora, Don Nazareno, noi vogliamo sapere tutto, perché sappiamo che sei lì da un po' di tempo, sappiamo che sei circondato da bellissime persone, tutti giovani, a quanto pare. Quindi mi sa che te la stai passando bene. Raccontaci però che cos'è questa missione che stai svolgendo lì, così lontano da noi. Beh, diciamo che la missione che mi ha toccato profondamente nel cuore, dopo essere stato tanti anni parroco lì, vicino a voi, a San Giovanni Rotondo, io parroco a Rignano Garganico, e aver collaborato anche con voi tanto tempo. Ebbene, ho accettato quest'invito. Il vescovo mi ha chiamato un giorno e ha detto tu potresti andare in missione. Ha detto Don Gianni, il mio vescovo, che è chinato in San Severo, ma io ho 50 anni e non ho più 30 anni. Ha detto non c'è mai un'età per non rispondere. E ho detto sì. Sono venuto qua, la mia missione è essere vicario parrocchiale di una parrocchia nel Benin Nord, nella città di Tanghietà, ma precisamente in un villaggio di nome Cociacù, che è un piccolo villaggio che però ha tanti altri villaggi. Mi occupo soprattutto della gioventù, degli studenti, ricerco anche dei sostegni dall'Italia tante volte, perché qui è necessario intervenire con questa carità. Mi sforzo di insegnare quello che conosco. Cosa conosco? Un po' di musica, un po' di francese, non lo so. Mi sforzo di essere soprattutto un amico, un compagno di viaggio. Senti, da tutte le pecore che hai dietro, se vogliamo chiamarle così, mi pare che tu ti stia, insomma, anche comportando bene nei loro confronti, perché ti seguono, ecco, quindi sei un bel esempio per loro. Ma come passate la giornata? Vogliamo proprio saperlo concretamente. Beh, adesso ti racconto la giornata tipica di un missionario qui in Africa, che poi non è tanto dissimile dalla giornata di un buon parroco italiano, con qualche differenza che ti spiego. Allora, la giornata inizia con la messa, che è molto partecipata, e la messa inizia molto presto, alle sette meno un quarto, perché poi tutti al lavoro o a scuola. E quindi poi si iniziano le varie attività, che possono essere di preparazione ai catechesi, e allora c'è la catechesi magari da preparare insieme a un gruppo di catechisti, che viene però da un villaggio che si trova a 30 chilometri? Bene, la prepariamo insieme, loro sono venuti magari dal giorno prima, e passa tutta la giornata, perché bisogna parlare magari una lingua differente ed essere tradotti. Poi, ecco, abbiamo i pomeriggi anche impegnati nella pastorale giovanile, quindi gruppi di giovani che seguono molto la parrocchia. Sto pensando anche di iniziare l'oratorio, ma qui è tutto un oratorio. E la giornata, sì, perché devi sapere che qui ogni famiglia ha almeno 10 figli, ma se non è a 10, ne ha 8, ne ha 9, ecco, qui si fanno un altro, bonjour, ça va bien, bon dimanche. E niente, quindi allora è pieno di giovani e veramente tantissime attività. Abbiamo un bellissimo gruppo scout, che oggi non ti posso presentare, perché sono fuori in attività, però ecco, anche lì c'è da lavorare, insomma. Ti posso dire soltanto, Anna Maria, e lo dico anche a tutti gli amici che ci seguono da Padre Pio TV, a cui voglio un gran bene da sempre, che la giornata finisce tardi e sempre velocemente, quindi i tempi sono anche tempi lenti. Sì, perché poi sono tempi lenti, spostarsi da un villaggio all'altro. Ho dimenticato di dirti che per fare 30 chilometri io ci metto due ore. Infatti quando mi hai detto che mi sto spostando per collegarti, non sapevamo quanto tempo ci avresti messo, insomma, ci avresti messo, quindi eravamo un po' così nelle tue mani. Don Nazarino, io so che lì nei paraggi c'è anche un mercato, e il mercato anche noi... Sì, adesso magari ci spostiamo, perché il mercato è il punto d'incontro, on va o marzo e si buple, e loro sono venuti con me, sono di Cociacu, sono dei giovani che poi magari mi presenterò pure, o dirà il loro nome. Sì. Bule di Vondunom, c'è qualcuno che entra in seminario, pensa anche pastorale e vocazionale, gente che entra in seminario e che dice ancora sì al Signore. Ecco, qua c'è un incontro tra due, perché devi sapere che qui anche i saluti sono lenti. e noi entriamo in una stanza, siamo quanti? Ci sono trenta persone, diciamo buongiorno e basta. Esatto. Qui devi salutare personalmente ciascuno. E ogni saluto coincide anche con chiedere come stai, è la tua famiglia, è i tuoi amici, hai dormito bene, hai mangiato bene, cosa farai stasera? Ecco, perché la giornata è lenta e quindi anche molto intensa, molto intensa. alla fine della messa e quando è giusto anche salutare tutti. Va via tutti. Non puoi dimenticare qualcuno, eh? Eh sì, sì. Allora, qua siamo al mercato. Ecco, questo. I mercati sono sempre colorati. Eh sì. E ovviamente... Buongiorno, va bene? Qui in Benin si è vissuta la colonizzazione, però l'eredità positiva è che questa lingua, benché lingua europea, lingua anche straniera, ha reso possibile la comunicazione tra villaggi che parlano lingue totalmente diverse. È come se da San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo parlassero due lingue, parlassero l'inglese e il cinese. Esatto. Non si capiscono neanche per piccole parole. Hai reso bene l'idea, ma tu insegni loro anche un po' di italiano, così? Me lo chiedono e allora io gli ho insegnato a dire ciao belli, ciao bella. On fa la prova a dire ciao bella a nostra amica Anna Maria. On dirà ciao bella Anna Maria. Ciao bella. Ciao bella. Ciao bella Anna Maria. Come stai? Come stai? Ciao belli, ciao belli, noi stiamo bene. Noi siamo di Cochacu. Noi siamo di Cochacu. Fantastici. Come si chiamano gli abitanti di Cochacu? Come si chiamano gli abitanti di Cochacu? Cochabà. Le Cochabà. Ah, Cochabà. È facilissimo. Secondo noi una volta a settimana potremmo collegarci per imparare un po' la loro lingua. No, perché no? La lingua si chiama Wama. Wama. L'etnia Wama è quella che abbiamo noi nei nostri villaggi ed è un'etnia importante, ricca di storia, di tradizioni. E pensa che da un villaggio sperduto della nostra parrocchia, ma sperduto significa non il centro pastorale dove io vivo, ma andare proprio in questi villaggi, è venuto fuori qualche bravo studente nel passato che oggi è il presidente del senato benilese. Ma la possibilità dello studio gliel'ha data la Chiesa Cattolica. E allora questa è anche la nostra missione, cercare di aiutare i giovani a studiare. All'istruzione. Se andate su Facebook c'è Missione Cattolica Cociacu, ci invitiamo chi vuole a poter fare la cosiddetta adozione a distanza. Guarda questa bambina quanto è carina adesso. Che carina. Ça va bien? Ça va bien? Te guarda come sono curiosi, sono tutti curiosi. Don Nazareno, io devo chiederti cosa manca. Don Nazareno, noi qui in Occidente, insomma in Italia, abbiamo tutto, si può dire, i giovani, i ragazzi hanno tutto sotto mano. Cosa hai notato che manca loro? O almeno di cosa sentono il bisogno? Guarda, una cosa che mi ha colpito dall'inizio, e mi ha colpito perché non la sapevo, non la conoscevo. Io ho fatto altri viaggi missionari, eccetera, ho studiato nelle missioni, ma non conoscevo questa cosa. La voglia di studiare. Mentre da noi c'è il disfattismo, qui invece c'è la voglia di studiare. Ti racconto una recente, qualche giorno fa, era già aperta la scuola, ho incontrato un ragazzo, c'ha 19 anni, 20 anni. Ho detto, e tu non sei andata da scuola? Ha detto, padre, io non riesco ancora a comprarmi i quaderni. Ho detto, ma tu perché non me l'hai detto? Ho tenuto io dei quaderni. È brutto dire così, però io ce li ho, insomma. Gli ho dato dei quaderni, ho detto, però adesso vai a scuola subito. È andato a scuola subito. Cioè, non è che ci ha messo tempo. Così anche per l'università, ho incontrato un ragazzo, si chiama Romain, era lì nel villaggio. Dice, ma tu non ritorni all'università dopo Natale? Io sono qui da quasi un anno. E ha detto, purtroppo non ho i soldi per il viaggio e sto cercando di lavorare, mi servono 8 mila franchi, che sono 12 euro. E ho detto, va bene. Ho detto, se io ti do queste 12 euro così, tu parti quando? Ha detto, parto subito. Ed è partito subito. Ed è rientrato soltanto quest'estate con tutti i risultati positivi dello studio. Che meraviglia. Dare la possibilità di studiare è una grande missione cristiana. Io non lo sapevo. Eh sì. Io pensavo, capito, l'insegnamento, catechesi, eccetera. Non avevo capito che Gesù ha dato anche da mangiare a chi aveva fame. E qui c'è una fame di cultura. I ragazzi chiedono quello. Che bello, c'è sempre da imparare. C'è sempre da imparare. Don Nazareno, poi la carità è legata strettamente alla missione, quindi al tuo essere missionario in quella terra. Ovviamente si può dare sostegno. Approfittiamo di questa occasione per chi volesse aiutare. Perfetto, sì. Dillo pure. Sai, Anna Maria, io ricevo sempre, anche io ho adottato a distanza per anni un giovane che adesso è medico in Congo. Io ero stato in Congo nel 2009 e mi sono sentito di adottare questo ragazzo che si chiama Cristian. Quando sono venuto qui ho capito che questa è una cosa importante. Ho quantificato in 180 euro all'anno tra iscrizione, vestito, perché qui c'è la tenuta, non è che si va vestiti così. Cioè vestito, libri, viaggi, eccetera, collegio per i ragazzi dalle scuole elementari alle superiori. 180 euro in un anno intero che distribuisco io personalmente, quindi nessun argent, nessun centesimo va perduto. Per gli universitari la cosa è un po' più triste, ma questi sono il futuro perché qui siamo al nord e il nord è abbandonato come era una volta da noi il nostro sud. Per gli universitari noi chiediamo, abbiamo quantificato in 800 euro all'anno. Ora è chiaro che magari un singolo non ce la fa, la pandemia ha portato anche situazioni difficili, ma ci si può mettere insieme. E ti dico che qualche risposta è già arrivata e non è arrivata da gente ricca, ma è arrivata da gente semplice che ha detto Don Nazareno sono una pensionata, voglio adottare un bambino. Su internet, su Facebook ci sono tutte le indicazioni per fare questa adozione a distanza in tutta sicurezza, con la garanzia personale che non viene dissipato neanche un centesimo. Le grandi associazioni molte volte devono mantenere dipendenti, eccetera. Noi siamo noi. Non c'è bisogno solo di bisogni, scusate il gioco di parole, spirituali, ma anche materiali. Ecco perché esistono queste missioni e queste giornate che ci aiutano a riflettere. Don Nazareno, il nostro tempo... E' vero, oggi è la giornata di scena puntiata. Esatto, quindi insomma abbiamo approfittato proprio per puntare l'attenzione su questo ambito. Don Nazareno, il nostro tempo televisivo purtroppo è terminato. Un saluto a chi ti segue e non ha mai smesso di sorridere. Ti è venuto dietro. Sono entrato a voi saluto e voglio saluto anche a voi. Quindi saluto in vostra lingua. Naesu, yo, ozungata. Naesu, yo. Che dicono? Ozungata, Dadari. Ciao, naesu, yo. Il saluto. Poi ozungata, hai ben dormito e hanno risposto loro stessi, Dadari, bene. Anche noi. Un abbraccio a tutti voi, a te anche in modo particolare. Saluto a voi, siete tutti nel mio cuore come sempre, Padre Pio TV, davvero. Tu sei nel nostro insieme a tutti i tuoi amici che sono lì, che ti seguono. Grazie, ciao belli. Ciao belli. Ciao belli. Ciao belli. Ciao bella. Ciao bella. Come stai? Come stai? Ciao Anna Maria. Ciao Don Nazareno, grazie. Grazie di cuore. Ciao Padre Pio TV. Ciao Padre Pio TV. Ciao Padre Pio TV. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.